Oggi terza pagina ci porta nel Duomo di Torino dove è stato eseguito il Requiem di Forè per i migranti morti in mare e poi un libro su Santa Bachita. Una nina nanna funebre che accompagna in modo materno le anime di chi in vita ha provato sofferenze e dolore, morendo annegato nelle acque del Mediterraneo. E il Requiem di Gabriel Forè a risuonare tra le navate del Duomo di Torino per una serata che ha visto la partecipazione di un'ottantina di voci dei più importanti cori dei teatri italiani, dirette dal maestro Fabio Biondi. Un'iniziativa organizzata dal Comitato Nazionale delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche dal Cineteatro Barretti di Torino con la pastorale Migranti di Ocesana, la CGL ed Emergency. Migliaia le persone intervenute, in coda già un'ora prima dell'inizio. Molti non sono riusciti ad entrare in una cattedrale stracolma. Sono persone meravigliose, tanta gente di non buona, buonissima volontà e tanta più gente di quella che ci immaginiamo che non sta dietro all'apparenza dei like, che non sta dietro a questa superficialità e a questa fuffa. La Chiesa è ben contenta di essere presente in questa iniziativa, anzi di aiutare fornendo anche il luogo che è molto significativo con la presenza della Sindone, la nostra Chiesa Madre. Mare nostro, che non sei nei cieli. All'alba sei colore del frumento, al tramonto dell'uva di vendemmia. La musica, ma anche letture, brani e riflessioni accompagnati dal suono del violino per raccontare il dramma dei migranti morti nel Mediterraneo, più di 2000 solo lo scorso anno. Un grido di dolore, un appello lanciato in maniera composta e significativa dal mondo della cultura. Noi siamo artisti, facciamo dell'arte, i teatri d'Italia sono rappresentati tutti quanti dai coristi che sono venuti gratuitamente, che sono venuti a loro spese. È un momento bellissimo di condivisione, vuol dire che c'è gente che milita. Il 27 febbraio del 1902 nasce a Salinas, in California, John Steinbeck, giornalista, cronista di guerra e soprattutto grande narratore. Premio Nobel per la letteratura nel 1962 ci ha lasciato capolavori assoluti come, furore, l'inverdo nel nostro scontento, la luna è tramontata. Una donna del riscatto di tante donne, una donna che ha insegnato il valore autentico della libertà. Questa è stata Santa Bachita, a cui Roberto Zanini, giornalista di Avvenire, dedica un saggio puntuale, appassionato, ricco di spunti tra informazione e narrativa, per entrare nel come della sua attività e della sua straordinaria esistenza. Bachita, nata in Sudan nel 1869, rapita all'età di sette anni e fatta schiava, più volte venduta, fu comprata da un console italiano nel 1882. Giunta nel nostro paese nel 1895, vi rimane fino alla morte, nel 1947. Nel 1893 si fa suora canossiana e per 50 anni si mette a servizio della comunità con una fede e dedizione incrollabili. Nel suo libro Zanini ne fa un simbolo e descrivendo la sua vita come in un racconto corale, indica una strada per ogni donna ad ogni latitudine. Bachita è stata canonizzata il primo ottobre del 2000. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.